Licio Di Biase ci sarà questa partecipazione di prestigio al FLA, al Festival dei Libri di Pescara e la presentazione di questa pubblicazione è Il processo a Carmela. Di cosa parla questo libro? È un libro ambientato alla fine del 1800 tra Pescara e Castellammare, una vicenda realmente accaduta rinvenuta sui giornali, poi approfondito attraverso gli atti processuali. È un processo per l'uccisione del marito della signora Carmela da parte del giovane amante di Carmela e la narrazione verte tutto sul processo, il processo che dura quattro giorni, si apre con l'apertura del processo e si chiude con la sentenza. Quindi è una storia accaduta ai colli di Pescara, una storia tra questa 28enne il giovanotto artista, tra l'altro pittore diciottenne, il marito scopre tutto e il giovane insieme a un complice uccide il marito della signora. E poi c'è soprattutto il processo che dura quattro giorni ed è un processo da leggere. Un racconto, un libro che racconta la storia di Pescara di qualche anno fa? Ovvio, parliamo di Castellammare, oggi Pescara, e di Pescara perché anche l'attuale centro storico è coinvolto nella vicenda della fine dell'Ottocento, quindi siamo a ridosso del nuovo secolo. Castellammare e Pescara stavano ormai cambiando volto perché siamo proprio negli anni in cui Castellammare si sviluppa nella zona pianeggiana con l'arrivo della ferrovia e della stazione e invece Pescara aveva quasi completato lo smantellamento della piazzaforte. Quindi, diciamo, queste nuove realtà emergono sullo sfondo di questo romanzo storico.